ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a longin longin sector dial il nome già ci riporta al passato ai fasti della casa ai la prima parte del secolo scorso del 1900 quando usavano questi quadranti così a settori particolari no questa non è una novità non è un orologio che è uscito ieri o ieri l'altro no ogni tanto porto sul canale anche orologi che è già un po di tempo che sono sul mercato e che avevo lasciato indietro per un motivo per l'altro e che però hanno qualcosa da dire secondo me chiaramente io sono un estimatore di longin se dei moderni che dei vintage quindi capite bene che il mio gusto personale mi guida nel portare anche questo orologio qua sul canale un orologio semplice essenziale che ho visto in vetrina dal buon giacomo e ho detto mettimelo a disposizione perché giacomo sarebbe il titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale che offre un trattamento di favore a voi che state guardando e che mi mette a disposizione gli orologi su mia richiesta no gli dico posso fare sì vai prendi pure quindi anche questo qua che è già un po di tempo che sul mercato me lo ha messo a disposizione volentieri no anche se non è l'ultimo grido e io anche per studiarlo perché io lo studio al posto vostro pensate un po mi metto qua lo studio scrivo il testo vi dico tutte le cosine come sono e voi non fate altro che stare lì col bicchierino in mano a guardare e dire ah sì è fatto così ci penso io a studiarlo però va bene è un piacere per me perché tutto tutto sapere know how che va nel mio bagaglio culturale no d'altronde più orologi tocchi e più ti diverti come diceva la scimmietta questo orologio qua c'è anche in versione io l'ho preso nero no tanto per cambiare c'è anche in versione color crema bianco chiaro e c'è anche in versione col bracciale insomma c'era un po per tutti i gusti quello nero è più classico la persona sobria quale io sono e quindi ho deciso di prendere quello ora prima di mostrarvelo no giriamo la camera e diamo la guardatella vi mostro l'orologio del giorno che anche oggi è questo bellissimo rolex dejas 41 quel quadrante nero acciaio e oro il bracciale giubilì che fa tutti questi questi scintilli c'è tutti questi spigoli vivi così come la ghiera zigrinata che c'è tutti gli spigoli vivi e sbrilucicano orologio che che è bello proprio bello 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 a volte penso al 36 ma no anche oggi ero macchina c'avevo lo guardavo dallo specchietto e mi sembrava anche piccolo figuratevi un po probabilmente ma forse perché lo specchietto riempicciolisce ma che ne so però no perfetto così bello assai 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 adesso giriamo la camera diamo lo sguardo al sector dial e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali apriamo le danze cercando di comprendere le dimensioni generali dell'orologio diametro cassa 38.5 spessore 11.2 mm ingombro trasversale al polso 47.4 e interasseanza da 19 mm misure consone allo spirito retro dell'orologio e che mirano ad emulare l'apparenza gentile dei vintage anni 50 colpisce l'esiguo spessore che è sicuramente correttamente proporzionato agli ingombri principali sovente capita di trovarci di fronte ad orologi compatti ma dallo spessore consistente con conseguente effetto tombino ben evidente qui no qui il profilo filante è palesemente una delle caratteristiche principali e unito alle finiture superficiali ci restituisce un orologio apprezzabile nella sua globalità nel design generale non è presente alcun tentativo di discostarsi dal glorioso passato anse sottili e ricurve verso il basso fondello filo cassa e corona dimensionata come se si trattasse di un carica manuale voglio sottolineare poi la lunetta in quanto non si tratta della classica geometria spiovente a 45 gradi qui abbiamo un semplice anello a profilo quadrangolare che va ad incastrarsi alla perfezione tra vetro zaffero e corpo cassa insomma tutti i piccoli dettagli che mirano riproporre quello spirito spartano che era prerogativa dei tool wash degli anni 40 50 sì perché in quel periodo a differenza di oggi il sector dial era da considerarsi un vero e proprio orologio da tutti i giorni un orologio ermetico era già di per sé considerato impermeabile mentre ai giorni nostri con i suoi tre bar di resistenza non lo si può decretare certo tale l'essenza sportiva la si evice anche dalle lavorazioni della cassa non vi sono parti lucide ogni superficie si presenta come spazzolata e a finitura opaca non esistono smussature di transizione e compaiono solamente spigoli ben evidenti uno spirito completamente differente dai longini eleganti dell'epoca laddove l'apice dell'orologio formale vedeva la cassa lucida e sovente declinata in oro questo sector dial vuole invece essere spartano su di un altro piano rispetto al classico longin dell'immaginario collettivo e ci riesce anche nel lato b in quanto il fondello a pressione rinuncia al trasparente per presentarsi completamente in acciaio decorato la clessidra lata incisa viene rappresentata nella sua più tradizionale foggia proprio per confermarci che si tratta di un orologio che vuole onorare orgogliosamente il passato remoto della casa personalmente apprezzo la scelta del fondello chiuso che tra l'altro contribuisce a contenere lo spessore generale al di sotto della media ma è anche il calibro a contribuire lo spessore dell'ata 2892 è contenuto e questo l893 è un diretto discendente di quel movimento cerchiamo di fare un attimo di chiarezza il 2892 è il solo tempo con secondi centrali mentre il corrispettivo con piccoli secondi sarebbe il 2895 in realtà in questo orologio abbiamo una versione con piccoli secondi che non deriva dal 2895 ma che è realizzata ex novo su base l888 questo perché il 2895 ha la secondina troppo vicina all'asse delle sfere lo si può notare in certi modelli di longin con questa versione modificata si riesce a spostarla maggiormente verso ore 6 con evidente guadagno in stile ed armonia per il resto presenta le stesse caratteristiche tecniche dei calibri longin di ultima generazione 25.200 alternanze orarie 27 rubini 64 ore di riserva di carica spirale a regolazione inerziale in silicio e sistema antiurto niva shock un ottimo meccanismo questo era il cuore dell'orologio ora guardiamo nel volto essenziale e geometrico questi sono gli aggettivi che mi balzano la mente al primo colpo d'occhio perché geometrico perché vi sono ben quattro cerchi a delineare il quadrante e svariate linee a dividerlo un insieme di aree definite che hanno lo scopo principale di suddividere in settori il quadrante la parte che dà il nome allo stile sector dial è quella delimitata dall'anello che parte dal reo appunto diviso in settori da 5 minuti cada uno apparentemente sembrerebbe pigmentato differentemente in realtà è ugualmente nero ma lavorato diversamente vediamo infatti una striatura concentrica che riflette la luce in modo da farlo apparire grigio scuro questo gioco di ombre e riflessi consente all'anello esterno di risaltare in maniera efficace permettendo al quadrante di risultare un poco più vivo di quanto gli accenti in sé possano fare si tratta infatti di un dial essenziale privo di datario e senza elementi in rilievo in quanto ogni accento è stampato direttamente sul quadrante senza l'utilizzo di materiale luminescente un design che fa forza sulla simmetria e sull'equilibrio delle linee senza cercare di mettere in evidenza un dato particolare anche le sfere a bastone molto sottili seguono la filosofia sopra citata e poco importa se la leggibilità non è da 10 elode è sufficiente inclinare un po col polso per metterle in evidenza ma il punto forte del quadrante è per me dato dalla secondina posta ad ore 6 come usava in tempo una soluzione che impedisce al quadrante di risultare troppo vuoto e che si sposa alla perfezione con il concetto di simmetria prima citato e qui troviamo una terza finitura il fondo è infatti lavorato a cerchi concentrici in stile vinile ponendosi così a contrasto con le precedenti due finiture se non bastasse presenta anch'essa una suddivisione a settori di 5 secondi andando così a riprendere lo stile del quadrante principale insomma un quadrante che partiva come essenziale ma che a ben vedere nasconde dettagli apprezzabili che lo arricchiscono visivamente non rimane che parlare del cinturino e qui c'è poco da dire la qualità è ottima vera pelle color tabacco chiaro che si fa ancora più chiara nella parte interna e trovo che l'old style delle punture bianche rappresenti l'ideale continuazione dello spirito della testa personalmente sono più attratto dei cinturini neri o testa di moro e credo che in questo caso sarebbero stati ancora più adatti l'unico problema è che il passo ansa è dai 19 mm misura dispari per la quale si può far fatica a trovare un'ampia gamba di scelta ma tutto c'è rimedio possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali dicevo del cinturino no color testa di moro nero che a me mi piace di più preferisco quelli però c'è per chi lo volesse dicevo c'è anche la versione come l'ho detto in apertura la versione col bracciale una sorta di chichi di riso che a me almeno delle fotografie non piace perché ai finali dritti e secondo me c'entra poco con lo stile di questo orologio è un parere mio personale sono un amante dei bracciali di bracciale e chicchi di riso ben vengano chicchi di riso a go go ma secondo me su questo poi l'ho vista in fotografia e magari lo vedo dal vivo e la scimmietta di cade la mani dibola e siamo rovinati però per ora lo preferisco con il cinturino anche perché un 38.5 mm cinturinato è proprio il succo del dello spirito vintage punti deboli di questo orologio ero sono trovati sembra strano possiamo mettere siccome si tratta di un orologio semplice essenziale no non c'è nessuno spunto tecnico ghiere girevoli vite cose da studiare con fondelli contro fondelli guarnizioni non c'è niente un orologio semplice probabilmente questa semplicità qua potrebbe anche essere presa come punto debole sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che la sparerà però la luminescenza ci vorrebbe la corona vite ci vorrebbe ma il fondello a pressione ci vorrebbe a vite no è l'orologio di quelli da 30 30 metri nemmeno 30 3 atmosfere semplice costruito per essere un orologio da non utilizzare in acqua non è un orologio tecnico niente di tutto questo orologio semplice essenziale che va a riprendere le forme di quelli degli anni 50 40 addirittura anche 40 quindi tutti questi qua che potrebbero essere punti deboli secondo me non lo sono però ve li metto lì ve lo dico se voi volete gli orologi quelli corazzati quelli da fare le immersioni che resistono tantissimo andate altrove non potete prendere il longin sector dia questo è un orologio essenziale ben rifinito come al solito con tutte queste spazzolature tutto completamente opaco tranne la corona la faccia della corona che ci sta che è lucidata anche il fondello è lucido stranamente è lucido però è un acciaio inox quindi non si rovina non è come quelli che insomma è placatoni di ma lo jim mai però per dire va bene mi piace mi piace la forma del quadrante chiaramente con i piccoli secondi a ore 6 veramente sono quegli orologi che ci piacciono tanto sapete che io sono un estimatore di logine vintage faccio una piccola collezione di roggi vintage della logine e quindi questo qua rientra completamente nei miei gusti poi punti deboli veramente non non ne saprei dire 19 ecco forse da 19 il passo del cinturino vi limita un pochino è chiaramente però io me li faccio fare artigianali dico john fammelo un po da 19 e lui me lo fa da 19 no sennò poi si trovano anche sul mercato da 19 un po minore lo spettro di scelta no possono scegliere magari cercavi quello da 19 e non c'è quello che ti piace a te da 19 non lo fanno e sei fregato ti viene rimane un po cosino qua la scimietta gli viene no il pomo d'adamo il pomo il pomo di scimmiotto e il fasso è giù capito va bene io l'orologio ve l'ho letto vi ho proprio letto come fosse un libro ve lo leggo così fra fra voi ascoltate e poi decidete se rientra nei vostri gusti un bello orologino della logine ci sta sempre bene poi questa è la quintessenza di logine per come ce la immaginiamo noi no al di là del fatto che ce la immaginiamo con la cassa lucida e brillucicosa elegante in questo caso no tutta satinata ma noi siamo amanti della satinatura come diceva quella no va bene dai ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto devo andare a vedere gattini su instagram che saltano mi piacciono più quelli che giocano con i cani e quando vedo i gattini e cani che sono amici io mi diverto molto detto questo vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao